Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nei giorni precedenti vi ho parlato di Tesla in relazione al progetto ARP. Se non avete visto i video precedenti, vi interessa l'argomento, magari andateli a guardare. Abbiamo visto che il progetto ARP è lì proprio grazie agli stessi appunti di Tesla, che ricordiamocelo non voleva agire secondo quella che è l'agenda arcontica, anzi voleva fornire energia libera a tutti, sfruttando i campi elettromagnetici presenti in natura. Loro, una volta sentite le intenzioni di Tesla, hanno cercato di demonizzarlo. Alla fine Tesla sappiamo benissimo che non ha ricevuto finanziamenti, è stato estraneato per così dire, è morto in povertà addirittura in una stanza d'albergo a New York. Quindi nel momento in cui qualcuno cerca di agire per il benessere collettivo viene demonizzato. Questo non lo vediamo soltanto in Tesla, lo vediamo anche nel grande Giordano Bruno, che ha lottato fino alla fine per portare alla luce quelle che sono purtroppo le cose che di questo sistema proprio non vanno. Quindi coloro che hanno portato in alto la truffa del sistema sono stati o uccisi, oppure comunque demonizzati e straniati dalla società in generale. Oggi volevo parlarvi di un'altra cosa che questo progetto ARP può fare, ovvero le proiezioni olografiche. Le proiezioni olografiche sono qualcosa di cui si sente parlare molto, soprattutto negli ultimi anni. E queste proiezioni olografiche a che cosa servirebbero? Servirebbero ad intrappolare ancora di più l'uomo, o meglio la mente, perché ricordiamoci la loro manipolazione avviene a livello mentale. Loro hanno capito che prendendo in possesso la vostra mente, prendono in possesso praticamente gli individui in generale. Una volta che si ha il pieno controllo sulla mente di un individuo, lo si può manipolare un po' come meglio si crede. Per cui loro hanno capito che la manipolazione doveva partire dal punto di vista mentale, delle percezioni, hanno creato le varie bolle di percezione errata, costituite da varie organizzazioni e istituzioni. Ci fanno credere in tantissime cose che in realtà non sono vere. Qui vi potrei citare la scienza convenzionale, che molto spesso etichetta delle cose che avvengono come dei misteri, quando in realtà quegli stessi misteri hanno una spiegazione logica, che loro non vogliono dirvi perché vogliono tenervi in costante ignoranza. E' costantemente all'oscuro di quello che realmente avviene. Le proiezioni olografiche non farebbero altro che, qui ho degli appunti che poi più in là voglio leggervi, non farebbero altro che intrappolare l'umanità ulteriormente in queste bolle di percezione errata. E ci sono state molte proiezioni olografiche, e molte ce ne potrebbero essere, come per esempio la proiezione di una probabile invasione aliena. Anche qui, nei film cosiddetti futuristici, se è sempre la minaccia di una possibile invasione aliena. Questo, il farvi concentrare su una probabile minaccia aliena, non fa altro che dissolgere la vostra attenzione su quella che è la minaccia reale, che ad oggi gli esseri umani si ritrovano purtroppo di fronte, e quindi il sistema globale e soprattutto il potere losco, che purtroppo tiene imbrigliato questo sistema ormai da secoli. Quindi, che cosa pensano loro? Dai, produciamo questo film, facciamo loro credere che in futuro la minaccia potrebbe essere aliena, e distogliamo la loro attenzione da quella che è realmente la minaccia, quindi l'instaurazione del nuovo ordine mondiale, e il fatto di tenere la popolazione sempre in perenne conflitto, e sempre appoggiata a questi falsi ideali. Quindi, in futuro, potremmo anche vedere una cosiddetta invasione aliena, o magari avvistamenti alieni, che loro potrebbero far passare per minacciosi, e quindi anche qui distogliere ulteriormente l'attenzione da quello che realmente è. Qui voglio leggervi brevemente alcune cose. Con questo genere di tecnologia, quindi la tecnologia ARP, si possono proiettare nel cielo immagini olografiche che sembrano vere. E in molti, in molti hanno registrato anche filmati, si sono viste nel cielo città, poi definite città fantasma addirittura, sono state proiettate anche immagini come per esempio quella della Madonna in molte occasioni. E c'è un video in particolare, che magari se riesco a trovare, se è ancora disponibile, vi metterò giù nella info. Quindi vi lascerò il link al video giù nella info. Quindi, se andate anche a fare una ricerca, video, comunque una ricerca su YouTube, troverete tantissimi video di persone che hanno proprio registrato queste particolarità nel cielo. Queste immagini simulano invasioni aliene o icone religiose per manipolare le percezioni e il comportamento di massa. Ovviamente, immaginate un domani, ci svegliamo fuori nel cielo, vediamo comparire queste enorme navicelle aliena. Queste immagini olografiche sembrano realmente vere nel momento in cui appaiono. Quindi immaginate il panico. Loro potrebbero creare panico da un momento all'altro con uno schiocco di dita, ragazzi, attraverso il progetto Bluebeam, il progetto Raggio Blu. Potrebbero creare panico con uno schiocco di dita da un momento all'altro. Ecco perché la popolazione, ma io qui mi riferisco soprattutto al cosiddetto 3%, così ci definiamo, ecco, come dice soprattutto Maurice Sun. Per cui, noi dobbiamo cercare di rimanere allerta, dobbiamo cercare di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. In questo sistema sono poche le cose ad essere realmente vere, come per esempio quello che vi dicono i politici. Secondo voi quello che vi dicono i politici è realmente vero, vogliono veramente il benessere dell'umanità intera, ma per favore, per favore. Quindi il tutto ci rimanda a un'operazione militare americana chiamata Progetto Raggio Blu, Project Bluebeam. Ci sono stati racconti di apparizioni nel cielo di divinità religiose, ad esempio la Madonna, no? E queste apparizioni molto probabilmente sono state proiettate per verificare quante persone credono alla loro veridicità. Qui addirittura ci sarebbe un video proprio riguardante la Vergine Maria e provate magari a cercare di questo appunto avvistamento sull'apparizione della Vergine Maria, se trovo il video ve lo metterò io, nei cieli dell'Africa, nei cieli dell'Africa causata appunto dal raggio blu. Non ci sono dubbi sul fatto che ARP possa essere utilizzato per simulare fenomeni naturali allo scopo di ingannare la gente, di creare scompiglio, anche qui, che è il loro vero scopo, quello di tenere sempre la popolazione o l'attenzione della popolazione su cose che fondamentalmente non hanno nessuna rilevanza, oppure creare scompiglio, creare scompiglio tra la gente. C'è una dottoressa, Carol Rosin, scienziata aereospaziale americana, negli anni 70 collaborò con il dottor Von Braun, l'esperto tedesco di missilistica che dopo la seconda guerra mondiale ebbe un ruolo di primo piano alla NASA. La Rosin ha rivelato che Von Braun, conscio di essere in fin di vita, perché malato di cancro, le confidò che era in atto, ragazzi, un piano per introdurre una serie di nemici fittizi allo scopo di giustificare la militarizzazione dello spazio e molto altro ancora. Nell'ordine, le disse Von Braun, tali nemici sarebbero stati, l'Unione Sovietica, i terroristi, una minaccia dei paesi del terzo mondo, i cosiddetti paesi problematici o che destano preoccupazione, come vengono chiamati oggi, o anche asteroidi, e da ultimo anche la minaccia di un'invasione aliena. Quindi ha fatto capire che attraverso questa tecnologia, in grado di proiettare immagini veritiere nel cielo, si sarebbero andati a creare varie minacce, minacce non concrete, inventate, poste lì per sembrare vere. Von Braun la esortò a non credere ad alcuno di questi avvenimenti quando si fossero verificati, perché si sarebbe trattato di bugie e falsi allarmi, così li definì. I punti della lista si sono già avverati fino a paesi problematici e nel febbraio del 2013 ci hanno raccontato che un enorme asteroide potenzialmente in grado di causare una devastazione di massa è passato vicino alla Terra a soli 24.000 km e a 15 minuti. No, così l'hanno definito. Lo stesso giorno c'è stato detto che un meteorite aveva colpito la Russia ferendo un migliaio di persone. Ma si è trattato di un qualcosa di vero oppure no? Ricordiamoci Leo che ci sono anche molte situazioni questa cosa quando diciamo che mi sono informata in modo molto più approfondito. Ci sono varie situazioni per esempio quando vi fanno vedere in televisione persone apparentemente povere che camminano chilometri e chilometri. Quelle persone che vi vengono mostrate in televisione lo sapete che molto spesso sono attori perché a volte davvero si vedono persone che camminano chilometri e chilometri per cercare così un luogo che li possa ospitare. Queste persone camminano quasi alla moda quindi con degli abiti che non sembrano né sporchi dicono allo stesso tempo che queste persone provengono da paesi molto poveri sono persone disagiate che non hanno nemmeno l'acqua per bere quindi figuriamoci per lavarsi però sono persone che camminano belle pulite con la macchina fotografica ecco perché vi dico che sono talmente stolti da non studiare nemmeno bene le cose qui si meravigliano se alcune persone notano queste discrepanze e le vanno a denunciare. Quindi persone che dicono sono affamate non hanno l'acqua per bere però poi te le vedi con i vestiti puliti proprio lindi camminare con la macchina fotografica sorridenti eccetera eccetera ci sono persone che vengono pagate per fingere di essere poveri tutte queste cose sono state anche denunciate nei cosiddetti video che aspettate proprio voi mi avete consigliato crolla cabala crolla ma ci sono tanti altri documentari che parlano di questo proprio di queste persone che vengono pagate per fingere di essere poveri per fingere di aver subito un qualcosa di grave e molte occasioni questi attori sono stati visti più di una volta quindi magari un anno hanno recitato la parte degli sfrattati di casa un altro anno hanno recitato la parte di capite ed è una cosa veramente schifosa ma anche le varie foto le varie foto che vengono diffuse per sensibilizzare in modo erroneo la gente le varie foto di bambini morti quante foto si vedono di questo genere in cui magari c'è la mamma lì morta con i cadaverini dei due bambini quelle foto molto spesso non sono veritiere e quella mamma e quei bambini non sono realmente morti quella mamma e quei bambini vengono pagati per fingere di esserlo per diffondere quella determinata fotografia vi rendete conto in che mondo malato viviamo e quindi in un futuro aspettatevi pure l'azione lampante di questo progetto raggio blu di queste proiezioni olografiche che effettivamente potrebbero farvi vedere cose che realmente non si stanno verificando e che loro metteranno in atto esclusivamente per misurare la vostra schiavitù mentale perché di quello si tratta facciamo vedere a questi stolti queste immagini vediamo a che punto è la loro manipolazione mentale proprio lì non dovete cadere proprio lì vi dovete discostare giratevi dall'altra parte ricordate innanzitutto che qualsiasi cosa tutto quello ecco meglio tutto quello che vi viene detto da questo sistema non è altro che dovrebbe essere interpretato al contrario perché viviamo in un'inversione arcontica in cui quando si parla di libertà si parla in realtà di schiavitù quando si parla di politica si parla anche qui di prigioni vibratorie quando si parla di benessere per l'umanità in realtà si sta facendo tutto il contrario quindi si sta cercando di fare di schiavizzare l'umanità indottrinarla ancora di più in questo sistema gli unici che hanno il potenziale il potenziale comunque di salvare se stessi e anche andare ad agire per il benessere della collettività siamo noi punto siamo noi ed è proprio questo che loro vogliono cercare di sopprimere la nostra forza la nostra forza d'animo la nostra forza interiore che ci fa ci potrebbe far fare cose grandi grandi loro vogliono limitare il nostro essere a questa frequenza vogliono limitare il nostro essere al nostro se fantasma a quello che noi siamo in questo sistema alla realtà che noi percepiamo attraverso i cinque sensi che poi non sono cinque vabbè noi possiamo fare tanto altro noi non siamo noi non siamo questo sistema noi ci ritroviamo a fare a vivere un'esperienza in forma umana ma noi siamo gocce di un infinito oceano di consapevolezza non dimenticatevelo mai e cercate sempre la forza che vi contraddistingue ricordatevi perché molti lo dimenticano che l'arma principale per sovvertire questo sistema siamo noi ad oggi rivestiamo comunque occupiamo la minoranza ma chissà ragazzi quindi io confido in voi cercate sempre di agire nel bene e attenzione a tutto quello che vi viene detto e a tutto quello che purtroppo questa società malsana sforna ogni giorno fatemi sapere quello che pensate voi delle proiezioni olografiche del progetto blue beam fatemi sapere se vi è mai capitato di vedere qualche stranezza nel cielo e io vi do appuntamento alla prossima ma vi auguro anche un buon proseguimento di giornata